Commissario Ugo Mastrolitto del Comune di Pozzuoli, ormai le manifestazioni contro la discarica del Castagnaro nella zona di Pozzuoli si susseguono incessantemente. I comuni della Reflegra hanno fatto una delibera in cui non vogliono assolutamente questa discarica. Il Commissario di Pozzuoli? Il Commissario di Pozzuoli, essendo un Commissario straordinario, non può fare delle delibere. Nel senso però che certamente non essendo un'espressione politica né io, che non sono il Sindaco, né la Giunta, perché non esiste giunta, io come Commissario straordinario ho preferito portare per una adessione all'iniziativa adottata dei sindaci dell'area che ho inviato alla provincia. Commissario, praticamente anche lei è sulle stesse posizioni dei tre sindaci dell'area Reflegrae per dire no alla discarica a questo punto. Ma io in realtà ho detto no alla discarica dall'inizio, perché quando siamo andati a parlare sia in provincia, che è adesso in regione, nell'audizione, ho appresentato quello che io penso, cioè che non è possibile farla. Commissario, a questo punto, secondo la sua esperienza e secondo come stanno andando gli incontri in regione e provincia con il Commissario Vardè, questa discarica non si farà? Ma secondo me Vardè prima di tutto deve fare dei carotaggi, deve fare delle prove per poter vedere se eventualmente si può essere una possibilità di effettuare quel sito, altrimenti certamente senza prove e senza esperienze sul campo non si potrà dire sì alla discarica. Fra l'altro l'area del Castagnari è inserita nel parco dei campi Flegrei ed è anche a rischio di sesto idrogeologico. Sì, sì, ma questo è stato già evidenziato anche dalla regione, per cui è così. È così e certamente la regione non ha alcun interesse e quindi ha ancor di più quell'area.